Lo sport ha un'importanza enorme nella vita dell'uomo. È strumento educativo, fattore di coesione sociale, occasione di svago. Alleanza nazionale si batte perché lo sport possa tornare a rappresentare un modello di valori e una risorsa per la nostra comunità nazionale. Vogliamo che le società sportive siano gestite con criteri imprenditoriali, ma non abbiano finalità di lucro. E che il diritto allo sport venga costituzionalmente garantito anche per gli italiani all'estero. Nell'anno delle Olimpiadi, con il ricordo vivo di tante grandi imprese, Riaffermiamo i valori di uno sport sano e pulito. L'unico in cui crediamo. 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 Grazie.